Le famiglie salernitane sono tra le più tartassate d'Italia, terze a livello nazionale dopo quelle che abitano in città ben più grandi come Reggio Calabria e Napoli, e quanto emerge da uno studio della CGA di Mestre, che ha stilato una classifica dei capologhi di provincia dove il carico fiscale è più pesante. Secondo il rapporto, le famiglie del sud sono le più tartassate per il peso dell'addizionale IRPEF, gravata dal deficit sanitario, e per la Tari, che risente dei costi della raccolta e smaltimento rifiuti. Proprio alcuni giorni fa, sul peso della tassa sui rifiuti per le famiglie salernitane, aveva lanciato un allarme il settore politiche economiche della Will nazionale, che aveva puntato l'attenzione esclusivamente sulla Tari. Tornando al rapporto CGA di Mestre, in ogni caso a Salerno, terza in Italia, lo sforzo richiesto alle famiglie residenti nel capoluogo è di 7.648 euro l'anno. Peggio stanno soltanto calabresi e napoletani. A Reggio Calabria, nel 2015, il peso complessivo di IRPEF, addizionali comunali e regionali all'IRPEF, Tasi, Bolloauto e Tari, ammonta a 7.684 euro. Al secondo posto di questa classifica, Napoli. Nel capoluogo campano le tasse che gravano su una famiglia media pesano 7.658. Se la passano certamente meglio città come Messina, 7.590 euro, Roma 7.588 euro, Siracusa 7.555 euro, Catania 7.547 euro e Latina 7.540 euro. La prima città del nord è Genova, che è soltanto tredicesima, con 7.405 euro. Le città meno tartassate invece a nord-est, nelle ultime sei posizioni, ben quattro, sono occupate da comuni Veneti e Friulani. Verona 7.061 euro, Vicenza 6.986 euro, Padova 6.929 euro e Udine 6.901 euro.